Stiamo bloccando la raffineria Eni di Porto Marghera per denunciare il ruolo delle grandi multinazionali nel petrolio nell'aggravare la crisi climatica. La crisi climatica è già qui, i rapporti ufficiali ci dicono che dobbiamo fermare le emissioni di CO2, dobbiamo tenere gli idrocarburi e i combustibili fossili dove sono nella terra. Siamo anche qui perché Eni è una vera e propria compagnia colonialista. In Africa Eni si macchia di crimini contro l'ambiente, contro le popolazioni locali, si macchia di pratiche illegali e fortemente impattante come il gas flaring e corrompe i governi africani per ottenere le proprie commesse, per ottenere i propri clienti. Per tutte queste ragioni noi chiediamo giustizia climatica, chiediamo anche la fine della devastazione ambientale del sud globale per diminuire l'impatto dei migranti climatici. Chiediamo che questi migranti climatici che arrivano da noi a causa della violenza dell'estrattivismo, a causa della violenza dell'economia colonialista e della distruzione del proprio ambiente siano accolti qui degnamente. Grazie a tutti.